Gli occhi arrivano in forma migratoria della Patagonia argentina, fanno tutto l'estate, stanno lì, e quando comincia l'inverno, quando comincia l'autono, la prima nevicata cominciano ad andare per il nord, arrivando a dove cominciano a mangiare, che sono sempre la pampa argentina, lì si assentano in grande numero vicino al laghetino dove dormono e noi facciamo la caccia dove mangia, facciamo un'esplorazione, troviamo un gruppetto interessante per fare una cacciata che si diverte al cacciatore, segnaliamo i buchi, questo si fa con l'esplorazione del pomeriggio. Il tipo di occhi che migra dalla Patagonia sono in tre varietà, stanno la occhi reale o di color grigio, noi qui in Argentina le diciamo la occhi cilena, nel libro si va a incontrare come cauchen, in generale cauchen le chiamano, le chiamano l'ornitologo qui in Argentina. Quella è una oca abbastanza piccola, 3 kg più o meno è lo che è pesante. E la oca di magaggiane, che è la varietà più abundante, dove il maschio bianco grosso tiene un peso di 4,5 kg e la femmina un pochettino più piccola andrà in 3,8 kg, una cosa del genere. Queste ocche stanno arrivando sempre per fine di aprile e si rimane nella regione migratoria fino al 10-15 di agosto. Dopo partono nuovamente alla Patagonia, dove Ninifica. Così fanno tutto l'anno, fanno 1.300 km di giro. È bellissimo guardare al mattino quando si alzano del dormidero. La oca dorme vicino a Laghetti e lì cominciano a fare un rumore particolare prima di alzarsi, dopo si alzano in grandi branchi. Sono bellissimo guardare al mattino il cielo quando si viste di questo volo di occhi. La oca dorme è la parola di alzarsi, dove Ninifica è stata la parola di alzarsi, dove Ninifica è stata la parola di alzarsi. La oca dorme è stata la parola di alzarsi, dove Ninifica è stata la parola di alzarsi, dove Ninifica è stata la parola di alzarsi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.